Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi, dove vi raccontiamo in pillole gli evenimenti più importanti della settimana. Al Policlinico e al San Giovanni di Dio sono riprese da diversi giorni le attività ambulatoriali e i ricoveri programmati fermi da marzo a causa dell'emergenza Covid. Per garantire la sicurezza di paziente e personale sono attivi rigide misure di sicurezza. Stefano Del Giacco è il nuovo presidente di EACI, l'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica. Lo specialista del Policlinico di Ulio Casula è stato letto in occasione del congresso che quest'anno si è svolto completamente online. Nuovi percorsi di promozione della salute rivolti ai minori e famiglie. È questa la piattaforma messa in atto dall'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari in collaborazione con l'Associazione Culturale Malik all'interno del programma Schillele. L'accordo è rivolto in particolare agli adolescenti della città metropolitana di Cagliari. Infine vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram AU Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338 71 94 434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento al prossimo venerdì.